Nuovo appuntamento con la nostra Trilogy, il nostro, il nostro, il mio, il vostro, no il vostro no, il mio effettivamente Tanto o parlo così, o parlo così, o parlo così, o parlo così, tanto si sente comunque male Quindi tanto vuole parlare bene e si cavola Allora, quindi Torniamo in Supernatural, come cavolo si chiama Ovviamente io offline ho accumulato soldini Così magari ho fatto avanti e indietro con i vari annunci Così magari in diretta potevo fare qualcosa in più Per poi poter fare effettivamente qualcosa di utile a livello di cambiamenti effettivi Allora, se andiamo nella prima struttura Il guanto io l'avevo già applicato Allora, potrei a questo punto, nella seconda struttura, questo è il Tapirulan Potrei, no, sbloccare questo non lo posso sbloccare Però potrei sbloccare un nuovo posto E magari portarlo a livello 40 Ok E poi Magari migliorare un po' il tempo Ok, andiamo un po' come cambia esteticamente Ma non mi sembra che è una quarta corsia Ma nulla di che Poi Reward Poi La terza stanza è questa Magari lo porto fino a livello 40 Miglioriamo anche un po' il tempo Ok Poi La quarta stanza la posso aprire con 25.000 biettoni Perfetto Noi abbiamo lanciato tutte le basi dell'insediamento di classe È un successo È Successivamente Promosso al Supernatural School avanzata Ora abbiamo sbloccato a livello avanzato Quindi The Superman Association approverà l'uso Del training machine dei Superman Ah, che è questa sfretta qua Guarda È questa qui I superuomini L'allenamento dei superuomini Della macchina Vabbè, insomma La macchina La macchina che viene dei superuomini Può aiutare gli studenti a diventare più potenti Ok Ogni studente Porterà un Un numero di revenue Alla scuola Quando loro avranno Eseguito Avranno Hanno superato l'avanzamento Ora Upgrade The training machine Oh, se dobbiamo farla Dobbiamo migliorarla Upgrade Wow Fantastico Il programma in classe Il crescita Il superuomini Vabbè Ok Ok Questo invece è una Un camerino Abbiamo perso Monster The lounge Vabbè Questo è dove? Ebbazitto Ah, ma fa un culo Perfetto Perfetto Qua è dove Assogliamo gli insegnanti Per Migliorare La possibilità di Apprendere le materie Questa è la prima stanza Abbiamo finito? Mamma mia Quanto parlate Rompipalle Allora In crash Turning Gasp Più Diciamo 20.000 ci sta E poi In crash Turning Capacity Più 2 Ok È cambiato l'estetica E ne può Increscere Uno in più Ora Lui andrà Nella prima stanza Che è questa qua E migliorare La possibilità Agli studenti Di eseguire Un upgrade Come insegnante Ok Poi Partecipiamo E qua invece Miglioriamo il prestigio Quindi Tanto mettiamo Un letto in più Poi Miglioriamo L'estetica Con il display Poi Basta Sì E Ha Preso un letto in più E c'è l'intervistoria Almeno sono un po' più Simpatici Da vedere Bene Oh Primo superumano È avanzato New super No Junior superman Unvady E possiamo sbloccare Anche questa parte qua Fantastico Caro Headmaster Now abbiamo La scuola può Accogliere più studenti In addizione Ah vabbè Ok Vabbè Questo è per gli snack Sì Ok Basta Ogni tot Ci clicchiamo Ci da monete No Poi Promuovo le cose Ok Allora Potrei soldare anche un altro professore Direi di farlo Così Perchè Perchè Però intanto abbiamo Sbloccato Il livello super avanzato Di tutto Ok Collezioniamo un po' di roba Ok Qua abbiamo fatto anche Le missioni Ottimo Ottimo Poi Non lo posso ancora fare Però sblocciamo un altro posto Ok E poi qua Vediamo un po' Livello 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 Perfetto A me l'abbiamo migliorato Le prestazioni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perfetto Abbiamo migliorato Le prestazioni Anche della capsula E Reward 6 6 Ok Allora Qua Io direi di Upgradare La capacità Dell'insegnante E Però Visto che i diamanti Qua sono molto più Difficili da ottenere Direi di Accumulare 350.000 Per adesso E lasciarli così Come stiamo Si si facciamo così Va Questo invece Ah Questo non l'ho migliorato Non ci ho proprio fatto casa A migliorare la stanza Errore mio Ho pagratato questa E non questa Vabbè E Ok Almeno a livello 10 L'abbiamo portata Un po' di profitto in più Poi Sono passati 9 7 minuti Ok Andiamo Allo Facciamo qua Dai Fight Ok Adesso passiamo All'ospedale per zombie Bene Ospedale per zombie Allora Anche qui Diciamo che Off camera Mi sono messo A portare avanti I video Per accumulare Un po' di soldini Per poi farvi vedere Le cose in diretta Allora Allora Vediamo un po' Questa possiamo migliorare Continua Terza ricompensa 10 di diamanti Perfetto Vuoi Vuoi C'erano Di figlia No Allora Che cosa Miglioriamo Oggi Io direi Che sarebbe buono Assoldare Gli altri Gli addetti Per esempio No Assoldiamo Gli altri 4 chef Gli altri 3 chef Che stanno in cucina Aspettate Poi Qua Se riesco Migliorerei Un altro Un'altra centrale elettrica No Per l'acqua Ho sbagliato E qui Per la centrale elettrica Così Magari Migliora l'energia Ed è tutto più semplice E posso a questo punto Emettere un'altra stanza Vero? Sì Ok Poi Adesso Finiamo Con l'assumere I restanti I scienziati Chi è che costa meno I costruttori Vabbè Questo non ci sape più di tanto I paramedici Osservano Gli infetti E prevengono Eventuali attacchi Di aggressione In caso Dal virus Zombie Vabbè Sì Diciamo che Sarebbe il caso Di Adessare tutti e 20 I paramedici I scienziati Però La medicina necessaria Per curare il virus E fanno anche Inizioni Gli infetti Quindi diciamo che Ok Siamo riusciti a ricordare Tutti quanti E poi I costruttori Vabbè Ok Così ci mettono Meno tempo A costruire Ci sta Ok Abbiamo Fatto un po' Di upgrade I scienziati Qua si stanno Mettendo all'opera Perfetto Perfetto Questi sono tutti quanti Quelli pronti Per inizioni Per la pulizia Un posto Un po' più efficiente Accidenti Cioè Voglio dire Male non fa Cos'è questo Ah vabbè Zombie guarito Qua abbiamo Ci sta anche L'estetica Che potresti migliorare Per aiutare A Diciamo I zombie Essere un po' più A loro agio Abbiamo 10 diamanti Potremmo Vediamo Con 10 diamanti Quanti cose possiamo fare Allora Beh Potrei Semplicemente Migliorare L'estetica Diciamo Di Quelle che sono Le camere No Allora Qua No Eh Questo Ci stava 10 Ma me Lo sono Giocato Così Costruire Vai Ok Cosa abbiamo Costruito A proposito Buona Tattata La dita Porta La termina La lavoro Più Velocemente Va bene Perfetto Perfetto Abbiamo Zero guadagni Ok Poi Sempre qua Off camera Porterò Qualche video Avanti Così Magari Poi Sarà più Facile Poi Guardare Tutti I discorsi Qua Ok Perfetto Adesso Passiamo Alla Prigione Ecco C'è La Prigione Allora Prigione Anche Qua Vorrei Assoldare Gli Altri Inservienti Come abbiamo fatto Per l'ospedale Zombie Così Fanno il loro lavoro È un po' più semplice Il discorso Eccetera Mi sei confiata la lingua Non so perché Allora Giorno 3 Va bene Allora Continuiamo Recrutiamo Allora Lavoratori Quattro lavoratori Guardie Ok 20 20 20 Guardi I chef E poi I pulitori Benissimo Ok Allora è un po' Posto un po' più efficiente Poi Abbiamo la cucina Aspettate Infermieria Ancora non va bene Dovremmo migliorare La parte Cos'è questo? Cella? No Dovremmo migliorare Dove sta Il L'energia Qua Generatore Si Batterie Miglioriamo le batterie Ok E anche I water tank Ok Meglio Meglio Poi Ah un altro bagno Ci sta Poi qua Abbiamo appoglato Dal massimo Un'altra cella Bene così Mamma mia Ah no Vabbè Qua gli upgrade Sono facili 36 Ok Ok Almeno il comfort È decente In questa cella Voglio dire Anche in questa Eh Ok 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 questa non aveva niente praticamente povero detenuti stavano povero detenuti vabbè un pallone però stavano qua senza godersi neanche il minimo indispensabile ok perfetto ok almeno c'è un minimo di miglioramento poi questa è la mensa tutto al massimo ah qua gli armadietti miglioriamo gli armadietti ok ok allora washing machine miglioriamo dove fanno il bugato i detenuti allora bene 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 il tavolo di ammissione miglioriamo anche a livello estetico ok ok delle pulizie ci sta qua poi in cucina e beh un minimo la cucina deve essere bene organizzata perfetto perfetto quindi direi che anche oggi ci fermiamo qua magari la prossima volta portiamo altri giochini nuovi così vediamo poi piano piano di portare roba sempre nuova questo è il cortile mamma mia la prossima volta magari ci richiamo il cortile mettiamo un alberello dove è comparso l'alberello non ho capito non ho capito non ho cosciuto un alberello da qualche parte mo vabbè perfetto così